bestiale ma cerchiamo di concludere qualcosa di costruttivo quanto meno perché sto spaccando il cazzo in una maniera devastante ma quindi il castello è tutto qui e quindi mi state scassando la no però scusami porta pazienza a Nottimina capiamo qua ci sono i granchi, là c'era Cristo lì c'era la Madonna e no è così è proprio così e questo è semplicemente un fallo che io non avevo visto, sono un coglione di merda perché mi evitavo tutta la strada per andare dal tizio porca puttana sì però qua non arriveremo mai a 100 ok stiamo calmi il tizio dove lo trovavo io ora sono vicino alla galera lutto di Morne me ne frega una minchia retro del castello castellano Edgar e niente devo fare devo rifarmi tutto il giro ostia che tortura di gioco mi avete spaccato il cazzo dai raga basta ho ammazzato il comandante è finita la battaglia dai buonasera allora io tecnicamente anzi in realtà oh ma che cazzo spero mi aiutare mi raccomando eh porta pazienza andata così eh quindi quindi oh ok e ora sono curiosa ora torniamo ad Irina ovviamente non posso porco due porco allora qui se non altro Gino Pippo mi vendeva questo precisamente mi vedeva un po' di robe interessanti però principalmente questo che voglio vedere cos'è andiamo a vedere ste informazioni ma come cazzo si fa qua tutte le volte di un bambino esatto esatto uccidi per primo il capo dei gruppi di semi umani per diffondere panico ma chi cazzo sono ma vabbè ok grazie per questa informazione pazzesca e via speriamo le cure tanto qua allora dove di merda era Irina va a finire che era qua a questo punto cambia la minchia andiamoci a piedi ragazzi 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 questo gioco basunca e non c'è più com'è morta ma scusa e l'hai lasciata da sola Gina ma vabbè vaga che fatica bordello della madonna per un cazzo di niente perché la verità qual è la verità è che il buon Beppe ma aveva accennato ad una missione di questo tipo che tu vai a consegnare messaggi e poi è andata così e nel dubbio che potesse essere questa io ho detto io provo a battere prima il boss e poi vediamo e niente anche così facendo non cambia la straminchia di niente proprio proprio l'inutilità vediamo qua che cazzo succede va eh raga aspetta che c'ho eh a parte che sono mani nude ma rotto il cazzo ho capito tornato indietro no no io non voglio andare qui allora io volevo seguire quel sentiero ciao attore di vedetta silvana pazzesco andiamo a vedere pozze di sangue poco preoccupanti vabbè e niente è andata così cos'è successo balista a mano dando per la balista beccata vai giù vai giù dio allora così così eh cos'è come cazzo si fa qua devo proseguire per di qui sembra che sia per di qua si ah luogo di grazia cioè ma quando li cercavo l'altra volta ne avessi trovato mezzo di bonino va vi allora cerchiamo di capire qua sud della torre di vedetta pazzesco io voglio andare di qua e vedere quantomeno cosa c'è qui perché se di qua portava solo quel castello di merda a questo punto presumibilmente le aree esplorabili quantomeno per ora sono quelle marroni quindi penso che il marrone sia tutto esplorabile cosa che non mi era ben chiara fino all'altra volta tra l'altro la voce qua che fa se ne va eh va bene ci pisciano no l'ho rischiato malissimo ma sbaglio sto facendo un giro inutile perché dovrei buttarmi qua sotto se poi devo sedere lì su proviene la foresta dei semi umani ammazza il leader l'ha detto ammazza il leader loro vanno nel palico raga eccolo lì basta saperlo allora va bene va bene va bene porca lontana allora forse mi conviene non la medusa così a naso ma basta dai che è poca vita dai dai massimo sforzo massimo sforzo me la sto giocando male la sto giocando malissimo andate nel panico secondaria incantesima equipaggio un bastone ah perché mi hai dato un bastone grande grande grandissimo il mio primo bastone bravi andate nel panico faccia di cazzo di qua suppongo ci sarà una minchiazza esatto perché c'è il paracipiglio con il mare io lo so che adesso vado qui ed è una trappola bestiale guarda lì tac suca va bene quindi sì ok è stato interessante loro non mi attaccano più sono amici di quello là di come cazzo forse non me l'ha detto il nome effettivamente comunque ci siamo capiti della scimmia scacciata dalla oppla io scommetto che ah no pensavo mi riportasse semplicemente di là invece no il fiorellino di campo non me ne frega una minchiazza qua c'è una chiesa con della gente che scassa la minchia per quello di dire gente che scassa la minchia in portale qui guarda così una grazia Deo grazia offa l'olà questa tra l'altro è palesemente la chiesa di El ma l'abbiamo un po' più incollata va bene allora capiamo cosa mi regala Cristo lacrimas ah vabbè mi ha messo venti ore di esplorazione più avanti scudo una cosa per volte come cazzo se le faceva incrementa vero tec spero che non ho altro ci ho provato ci ho provato cos'è che devo ascoltare attentamente qua come al solito bugiardi del cazzo andiamo a vedere dietro c'è gente che si ammazza cercando di salire tutto abbastanza chiaro e lì c'è seppol credezza ah wait io 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 what ma pazzesco non era quello che volevo però pazzesco io voglio capire dove cazzo era lo starting point perché capito ma cos'è sto perché capito quello c'era l'erede innestato da scannare da scannare solo che solo che qua ti risvegliavi probabilmente lì nella caverna della conoscenza ti risvegliavi cimitero abbandonato non mi sembra lì c'è quel bastardo maledetto ma tanto non vedo particolari alternative qua pazzesco non c'è una minchia no eeeh perché ho come l'impressione seppol credevami ci provo no ma muoio palese che rischio no io vorrei voglio capire vediamo un attimo qua e però questo è il posto da dove cerchiamo di capire allora no qua ti porta su a sepolcre non è una roba che mi interessa what ok e baffanculo sti trasti del cazzo allora capiamo perché se qua no no cazzo il veleno e raga andata così vabbè si troverà una grazia prima o poi che cazzo è e adesso le mie anime sono lì dio bubu ovviamente non sarà assolutamente no dove cazzo era indietro avanti qua non sarà assolutamente superabile in alcun modo ah stai scherzando spero allora corri fino lì fino lì capiamo mi corro dietro ci sarà una alcova tomba dell'eroe di Cristo vai vai ci sarà un alcogan ah cazzo pensavo fosse un coso meno male che mi è venuto l'istinto corri corri nell'alcogan allora ciao oh cazzo ma in che cazzo di posto sono finito ma vai su questa biga ovviamente girerà io lo so che arriva qui e gira il bastardo quindi io mi ficco qua è verità che ora fai il giro faccia di cazzo lo sapevo troppo raga sono veterano non mi fotti vai va e ora ovviamente farai il mezzo giro che faccia di cazzo fermandoti lì tra l'altro capiamo non ci credo non è vera questa cosa che è appena successa con cosa mi hai beccato allora quindi ma le anime sono ancora più giù non è già Cristo cocco basta allora le anime sono con me qua probabilmente va a fare tutto di corsa prima che lui si giri perché sennò dopo un bordello vai cazzo perché qua non vedo la cove eh lo so bastardo fino a qui sono al sicuro ora probabilmente posso anche rischiamare fino a giù lo sento dietro devi correre puttana tua madre allora io aspetto che lui sia fin sopra poi mi butto di sotto però mi sa che è il momento sbagliato forse ci siamo forse ci siamo shit perché lui ora girerà ma io trovo la trova su cacoglione allora devo andare sotto o su ma dove cazzo è andato ma e allora salgo e qua ovviamente c'è Cristo allora stiamo calmi te sei cattivo io lo so che sei cattivo non posso evocare niente non posso fare niente dai va va non è infattibile però di porco no raga adesso le anime sono lì no 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 sarebbe interessante ora provare a fottermi l'oggetto e correre giù se mi fotto l'oggetto grasso infatti vaffanculo e allora se è grasso ah ma adesso quell'altro torna wait 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 ho fatto una rivalutazione porca pittana ora si può andare alla ricerca di una alcova vieni 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 tac no ma non ci credo che non muore e adesso le mie anime sono di nuovo qua suca ragazzi buongiorno io voglio solo le anime me ne vado tanto quell'altro aveva solo la funzione di darmi il grasso tracco bestiale questo è un problema aspetta aspetta non avete capito c'è proprio un pericolo un impending doom ok fate cosa vedete non certo quell'ora torna ed è un problema perché non vedo assolutamente cazzo muoviti ok che cazzo di ansia è finita è finita va bene però ora le anime sono qua e posso andare direttamente a sinistra no ah ah vediamo un po' oh porca puttana ma cos'è ma cos'è porca puttana